25 aprile festa della liberazione come ogni anno viaggimolise fa tappa a Castelnuovo a Volturno per documentare due dei momenti più significativi di questa giornata. Prima la commemorazione davanti alla stele che ricorda il partigiano Jaime Pintor, poi su a Monte Marrone, ai piedi del monumento ai caduti, dove cominciò a muovere i primi passi il corpo italiano di liberazione. Grazie a tutti. Lorenzo Coia, Presidente della provincia di Sernia, ogni 25 aprile ci si trova qui ai piedi di Monte Marrone per ricordare una pagina importante della storia del Molise, ma della storia d'Italia. Dato significativo, complice anche il bel tempo, si vede un po' di gente qui. Sì, un po' di gente, una bella giornata e una buona festa della liberazione, che quest'anno cade in un momento particolare. Sono 72 anni dal 25 aprile del 1945, quando fu dichiarata la fine della guerra e la liberazione dall'invasione nazifascista di questo paese. 70 anni dalla promulgazione della Costituzione Repubblicana e siamo anche al 60esimo anniversario della nascita della Unione Europea. Quindi sono tre date significative che festeggiamo oggi qui e che riportano i valori soprattutto dell'unità. Quindi l'ideale è quei valori che hanno portato alla liberazione dell'Italia, a quei valori di pace, di solidarietà che dobbiamo ancora rivitalizzare, soprattutto nelle giovani generazioni, per far sì che ci sia un'Europa unita. In questi ultimi mesi ci sono spinte xenofobe, reazionarie, fasciste all'interno di questa nostra Unione Europea ed è necessario che queste date siano importanti per le giovani generazioni, per dare un segnale che con l'Unione Europea, che ha garantito fino adesso 60 anni di pace in questa nostra Europa, in questo vecchio continente, prima dilaneato da guerre espansive, da guerre interne, sono dei valori fondamentali. Senza pace non si ha la libera e civile convivenza e soprattutto senza pace non c'è sviluppo e non c'è democrazia. Chiaramente riflettori puntati a una giornata come questa, proprio su Monte Marrone, qui sono state scritte pagine significative della nostra storia, qui ha mosso i primi passi il Corpo Italiano di Liberazione, qui giù c'è il monumento che ricorda il partigiano Jaime Pintor. Sì, qua ci sono due tappe significative, infatti la manifestazione del 25 aprile ha questi due momenti, la stele che ricorda il sacrificio di Jaime Pintor, un intellettuale che a 24 anni viene a morire qui in Molise, che dice sono un intellettuale e avrei fatto di tutto, probabilmente sono un pessimo partigiano, un pessimo combattente, però è venuto a morire tra queste montagne. E sopra il monumento delle regioni che rappresenta la nascita del Corpo Italiano di Liberazione, l'esercito italiano ricostituito che viene qui e ridà dignità e credibilità allo Stato italiano, all'esercito italiano. Gli alleati non si fidavano di noi, eravamo post fascisti, eravamo ancora fascisti e avevano scarsa considerazione di noi. La presa di Monte Marrone, da parte del reggimento di motorizzazione, diede alla Stura la nascita del Corpo Italiano di Liberazione. E' da qui che rinacque l'esercito italiano e senza l'esercito italiano e senza le brigate partigiane non ci sarebbe stata la guerra di liberazione. Tecla Boccardo, segretario regionale della UIL, ci si incontra ogni 25 aprile qui a Castelnuovo, a Monte Marrone. E' la festa della liberazione, ma sembra essere diventata la festa del lavoro perché ci sono sempre i sindacati a rivendicare un diritto sancito dalla Costituzione che oggi sembra essere definitivamente tramontato in Italia e in Molise. Beh, c'è il gel di fronte, c'è il gel di fronte a quelli che sono i valori e che sono in questo caso i valori anche della Costituzione, della democrazia, della partecipazione e del lavoro. Sono uniti, ci sono e ci saranno sempre perché questi sono valori fondamentali per noi ai quali vogliamo dare un'importanza particolare anche attraverso il ricordo di quello che è il passato, che è il futuro che oggi noi abbiamo. Non saremmo quello che siamo e non avremmo le libertà che abbiamo se non ci fosse stata quella resistenza e se non ci fosse il 25 aprile che oggi rappresenta per noi ancora un importante momento di ricordo per tenere presente anche per il futuro. Chiaramente certi valori, come accennavamo prima, sembrano essere tramontati, insomma adesso c'è l'esigenza primaria quella del lavoro, un lavoro che qui in Molise non c'è, siete qui anche per rivendicare questo. Certo, non dimentichiamo che proprio l'articolo 1 della nostra Costituzione dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi qui si uniscono tutti quelli che sono i valori della democrazia e della libertà che si ha quando c'è il lavoro. Purtroppo in Molise il lavoro in questo momento manca, però ci sono tante risorse e tante opportunità e se questa terra vuole può riscattarsi. Il lavoro è un elemento importante sul quale noi ci stiamo spendendo tanto e anche le risorse che ci sono saranno utili per ricreare lavoro su questo territorio. Certo, democrazia però è anche comunicazione, anche molte sono le aziende in crisi in questo momento, sono in crisi anche la comunicazione, comunicazione, divulgazione e partecipazione. Io voglio ricordare qui quanto è importante anche che queste aziende della comunicazione possano andare avanti. Noi siamo vicini anche a questi lavoratori della comunicazione, vi vediamo qui presenti oggi, si temeva insomma sulla vostra presenza o meno, proprio perché comunque sappiamo tutti come sono in difficoltà. E questo è il momento in cui le risorse per la ripresa del lavoro devono essere risorse anche per tutta la stampa, in maniera che la divulgazione delle informazioni e delle opportunità che ci sono in questo territorio arrivino. Io mi auguro che il Presidente della Regione metta in moto un meccanismo che possa ridare lavoro e dignità a chi il lavoro l'ha perso, che possa riportare ampi spazi anche di autoimpiego a quelle che sono le persone che vogliono scommettere su questo territorio. Sandro Del Fattore, segretario generale della CGL Molise, che senso ha perché il sindacato deve essere presente proprio qui, in questa giornata della liberazione? Per tre ragioni. La prima è che siamo qui per commemorare coloro che si sono battuti contro il nazifascismo, per la libertà, per la dignità di un paese, per il riscatto di un popolo. E non dimentichiamo che grazie a quella lotta, alla resistenza, è stata scritta una delle pagine migliori di questo paese, una delle pagine migliori che ha dato l'Italia repubblicana e che ha dato una delle migliori costituzioni che ci sono al mondo. La seconda ragione è che siamo qui non soltanto per commemorare. Abbiamo appunto la migliore costituzione del mondo. Oggi sono tanti quelli che ci dicono che questa costituzione andrebbe cambiata. Ci sono le famose agenzie finanziarie internazionali che nei mesi scorsi ci hanno detto addirittura che bisogna cambiare la costituzione italiana perché è troppo democratica. Noi li ringraziamo del Consiglio, ma ci teniamo ben stretta la nostra costituzione, proprio perché è una costituzione democratica. È una costituzione, anzi, di cui chiediamo la completa e integrale attuazione. C'è una terza ragione per cui siamo qui. Noi siamo CGL e Cisle Will, siamo il sindacato. E non dimentichiamo che quella bella costituzione scritta dopo la lotta di resistenza dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. E noi oggi vogliamo ribadire questo impegno. L'impegno per una lotta democratica, l'impegno per una lotta per la libertà, l'impegno per una lotta per la pace e l'impegno per una lotta per il lavoro. Troppo spesso negli ultimi anni il lavoro è stato considerato come una qualsiasi merce. Si prende quando c'è e si getta via quando non serve più. Noi vogliamo ridare dignità e qualità al lavoro. Per questo noi oggi siamo qui, non solo per commemorare, ma ribadire il nostro impegno per la pace, la libertà, la democrazia, il lavoro. Termina così la prima parte della puntata di Viaggio in Molise che abbiamo dedicato alla festa della liberazione e ai momenti commemorativi organizzati a Castelnuovo a Volturno. Ci salutiamo ricordandovi come sempre che trasmettiamo questa puntata su Telemolise, canale 11, Telemolise 2, canale 12 e sul nostro canale tematico Molise mio, canale 212. In Abruzzo potete vederci sul canale 96, mentre a Roma e nel resto del Lazio trasmettiamo sul canale 880. Tutte le puntate sono disponibili anche sul nostro sito web. Vi ricordiamo l'indirizzo www.telemolise.com